In ogni bimbo sofferente, noi dobbiamo vedere non soltanto l'uomo precocemente chiamato a partecipare all'umana solidarietà del dolore, ma un piccolo agnello che purifica e redime, secondo l'amorosa legge di Cristo. Questa è la storia di una bimba apparentemente come tante, ma in realtà eccezionale. Antonietta Meo, detta Nennolina, una bimba generosa, specie verso i poveri, come tutte le bambine un po' biricchina e golosetta, ma decisamente più intelligente della media. Ma Nennolina, oltre a essere intelligente, buona e generosa, era talmente innamorata di Gesù e disponibile alla sua grazia, che in sei anni e mezzo ci ha fatto stupire, rivelandoci le meraviglie che Dio opera nei piccoli e nei semplici, come dice il Vangelo. Non a caso in questa bimba è in corso la causa di beatificazione. Ma Nennolina, oltre a essere legale, come dice il Vangelo. Ma Nennolina, oltre a essere legale, come dice il Vangelo. Nata a Roma, in un villino di Via Statiglia, il 15 dicembre 1930, Nennolina fu battezzata il 28 dello stesso mese, festa dei Santi Innocenti, nella Basilica della Santa Croce di Gerusalemme, chiesa parrocchiale della famiglia. Mai, data e luogo, furono più carichi di significato, alla luce di quanto successe poi a questa bimba. Il papà, Michele, funzionario alla Presidenza del Consiglio, era del Terzo Ordine Francescano, e la mamma, Maria Ravaglioli, molto impegnata nell'azione cattolica. Famiglia di profondi sentimenti cristiani, era stata già allietata da un'altra figlia, Margherita, ma anche visitata dalla sofferenza per la morte di ben due fratellini. Ora, però, cominciava un periodo tranquillo e sereno. Antonietta colmava quei vuoti. Scrive la mamma nel diario Quando portavo Antonietta in chiesa, e accadeva frequentemente, data la sua grande devozione a Gesù nel tabernacolo, la bimba si metteva in ginocchio, tutta raccolta, le manine giunte davanti a Gesù sacramentato. Poi andava qua e là per visitare gli altari. Chiedeva spiegazioni dei Santi con infiniti perché. L'altare della Madonna era il preferito. Vi restava in ammirazione. Mi ricordo che una volta era venuto un bambino a bussare la porta e aveva tanta fame. Più che i soldi voleva mangiare, sua credura. E allora mamma gli diede a un piatto di maccheroni. Antonietta lo guardava a occhi aperti. Dopo tre anni, un giorno mamma gli spiegava durante la malattia, l'ultimo tempo, gli parlava del giudizio universale, delle parole di Gesù, che diceva a Gesù avevo fame e mi avete dato da mangiare. Dice, mamma, tu allora stai tranquilla perché starai alla destra di Gesù. Diceva perché? Figlia mia. Diceva perché tu hai dato un piatto di pasta tanti anni fa, ti ricordi a quel bambino. Grande è anche la sinergia educativa tra genitori, parrocchia e suore di via sommelier. Qui Antonietta frequenta la scuola materna e nel gennaio 1936 viene iscritta come piccolissima nella gioventù femminile di azione cattolica. E come ricorda la mamma, con grande fierezza mostrava a tutti il distintivo e la tessera. In questo periodo, Nennolina, la sera, comincia a dettarmi le letterine che poi mette sotto la statuina di Gesù bambino. Così, diceva, durante la notte può leggerle. Alla sua morte, il 3 luglio 1937, si conteranno 170 letterine indirizzate a Dio, a Gesù, con vari appellativi, allo Spirito Santo, alla Madonnina, all'Angelo Custode e a vari santi. Marzo 1936. Una brutta caduta nel giardino delle suore degenera in un sarcoma osseo. Comincia il calvario di Nennolina e dei suoi cari. Il 25 aprile, con un altro, ma questa volta tragico richiamo simbolico, al Calvary Hospital a Roma, le viene amputata la gamba sinistra nel tentativo di evitare il peggio. Fin dalla convalescenza, quando la spingono in carrozzella per i viali della clinica o in cappella, la sua meta preferita è proprio il calvario e al babbo che le domandava senti molto dolore. Antonietta rispondeva Papà, il dolore è come la stoffa, più è forte e più ha valore. Un giorno Antonietta soffriva moltissimo, stava molto male, però diceva sempre sto bene, non si lamentava. Mamma a un certo momento ha avuto un momento proprio di sconforto e piangendo le ha detto senti Antonietta vogliamo pregare a Gesù che ti faccia scendere dal calvario? Perché lei diceva che stava sul calvario con Gesù e con la Madonnina. E Antonietta ha detto no mamma, dobbiamo stare qua. Per il 25 aprile dell'anno successivo, anniversario dell'amputazione, Antonietta volle che si festeggiasse col dolce e lo spumante, perché diceva La gambina io l'ho donata a Gesù. In questo periodo cominciarono gli incontri con Gesù, un dono mistico ben verificato al processo canonico. Un pomeriggio raccontò alla mamma che talvolta le capitava di vedere Gesù. La mamma non le diede importanza dicendole che tutti lo pensiamo o immaginiamo. Ma Nennolina precisò Quando vedo Gesù lo vedo bene, lo vedo di carne, come vedo te o come tu vedi quel mobile lì. E ancora Oggi in cappello ho visto Gesù in croce. Mi guardava. I suoi occhi erano tristi. La domenica dopo, nella Basilica di Santa Croce di Gerusalemme, Antonietta si fermò davanti al grande crucifisso della navate laterale. La mamma ne approfittò per chiederle se Gesù, che vedeva lei, era come quello lì. Ma Nennolina disse di no. Quello che vedo io non hai piedi inchiodati così, ma affiancati. Nell'ottobre 1937, comincia a frequentare la prima classe elementare e, considerando l'incertezza del futuro, nonché la maturità, decisamente superiore all'età, le viene concesso di anticipare la prima comunione. Spasmodica, si fa la sua attesa di incontrarsi con Gesù. Dal 15 ottobre al 24 dicembre, vigilia della prima comunione, si contano ben 76 letterine. È un incalzante conto alla rovescia. Finalmente, la notte di Natale, Antonietta di Gesù, come aveva cominciato a firmarsi nelle letterine, diventa veramente tutta di Gesù. Anche lì fu un'altra cosa che impressionò moltissimo, è che questa bambina che era vivacissima, non stava mai firma, non si muoveva, si saltava, correva con tutto l'apparecchio di legno. È stata tre messe, perché allora a Natale, la notte di Natale, si dicevano tre messe una dietro l'altra. È stata tre messe, immobile, in ginocchio, con l'apparecchio di legno, finata a pregare. E nessuno si rendeva conto come fosse possibile una cosa del genere. E nei mesi successivi prese la dolce abitudine, quando andava in cappella per la visita a Gesù, di andare a bussare la porticina del tabernacolo. Seguirono giorni tanto belli e pieni di consolazione, ma erano la quiete prima dell'ultima tempesta. L'osteosarcoma avanzava silenzioso, ma inesorabile, provocandole vari disturbi. Le fu quindi concesso di anticipare anche la cresima, fissata per il 15 maggio 1937, vigilia di Pentecoste. Quel giorno al suo confessore, Monsignor Dottarelli, fece vedere il piccolo diario che aveva scritto durante la preparazione. Erano 19 fioretti e propositi. Siamo usciti dalle suore, lei mi ha detto anche io sono un soldato di Cristo, che io gli ho detto ma tu sarai generale che soldato, tu non sei soldato. No, no, dice di generale ce n'è uno solo. Il mattino dopo, domenica di Pentecoste, Antonietta ritornò dalle suore e indossato per la seconda e ultima volta l'abito bianco della prima comunione, si unì ai bambini che in quel giorno facevano la loro prima comunione. Dopo la cresima l'appetito diminuì ulteriormente. Domenica 23 maggio tutta la famiglia si raccò a messa nella basilica di Sant'Antonio in via Merulana. Dopo la santa comunione tornò a casa con molta fatica ma non disse nulla, la fronte bruciava. Il termometro segnò quasi 39. La sera del 26 maggio chiese al papà una grazia. Voleva fare la comunione l'indomani, festa del Corpus Domini ma il papà imbarazzato rispose che non si poteva scomodare un sacerdote in quel giorno e la piccola non disse nulla ma il suo visino si era rattristato. Provvidenza volle che padre Bernardino saputo che Nennolina era malata le portò la comunione a casa. La gioia della bimba fu immensa perché Gesù era venuto a casa della sua Antonietta. Il 28 maggio peggiorò ulteriormente. Una tusse secca, lacerante, sempre più forte la tormentava giorno e notte. Si parlò di pleurite e di enfisema. La piccola soffriva tanto ma non si lamentava. Parlava poco ma ascoltava volentieri specialmente quando nei momenti di calma le parlavano di Gesù. Diceva a stento le sue pregherine e offriva tutto al suo Gesù. Poi dopo si è aggravata sempre di più il medico di casa ha voluto un consulto e è venuto questo professore Milani mi ricordo si chiamava era visitata gli ha detto che stava gli si era riprodotto questo male polmonino. Ha visto sul comodino sul comodino una di quelle letterine che scriveva sempre che lei scriveva le letterine dice stanotte viene Gesù e le legge ha visto la letta questa letterina dice senti a Donietta e questo professore era professore del Papa dice ma dai che io proprio stamattina devo andare al Santo Padre se si la prendo pure. La mattina dopo io stavo sul terrazzo vedo fermare con una macchina lì sotto era una macchina della macchina del Vaticano perché quella volta le macchine non si vedevano e mi dava una busta questa è casa l'Antonietta dice devo consegnare questa busta e io si accomodi no no dice devo solo consegnare la busta beh dentro la busta c'era la benedizione del Papa questa letterina che l'hai restituita poi con un'altra busta dentro c'è stava un bigliettino del professore dicendo che restituiva il suo onorario alla piccola Antonietta che ne faccia quello che vuole con i soldi della visita allora la mamma dice vedi il professore le ha restituito i soldi della visita dice adesso quando starai meglio usciamo questi sono tuoi ci compri quello che vuoi tu gli ha detto senti mamma porti i bambini poveri intanto il male avanzava e ricoverata di nuovo al Calvary Hospital il 24 giugno 1937 cominciò l'ultima tappa di questa via crucis resezione di tre costole per metastasi del sarcoma e altri tormenti ma Nennolina sopporta tutto con incredibile forza sostenuta dalla certezza di fede ma anche dalle ineffabili mistiche visite di Gesù infatti quando venerdì 2 luglio 1937 la mamma le chiese da quanto tempo non vedesse Gesù rispose l'ultima volta è stata questa mattina quando ho fatto la comunione e quella fu la sua ultima comunione io che stavo lì vicino c'ho ancora che si è girata verso me quell'occhio di scolpire dicevo lì e adesso che fai la comunione Antonietta dico preghi anche per me allora si è girata un pochetto e mi ha detto si Caterina pregherò sempre per te e si è ricomposta entrano il padre e la madre in quell'istante si mettono uno di qua di là del letto la visti si è girata ha detto mamma papà si è riadaciata su Gussini guardando in alto Dio fece è aspirato l'ultimo respiro è stato vero ora riposa nella cappellina vicino alle reliquie della Santa Croce che Santa Elena madre dell'imperatore Costantino ha portato da Gerusalemme meta di continui pellegrinaggi Nennolina insegna a tutti come l'amore superi il dolore quando ci rechiamo in quella cappellina e nel silenzio ci sembra di capire quella ineffabile struggente piccola grande via e nel silenzio Autore dei sovrapposti 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 Autore dei sovrapposti